E poi quando... cioè, a effetti è messo abbastanza bene il film, cazzo. Molto bene, sì, sì. Per essere... nel 2001. Eh, che le piaracchime usano l'actualità, non sai? Poi vabbè, calcola che nel 2001 è uscito pure Black Hawk Down, che anche quello era un capolavoro. Black Hawk Down. Eccolo, è arrivato. Hey, what's up, Billy Dancer? Oh, ho fatto il mio rame share. Ah, ti ricordi questa mappa, Rick? Questa è la mappa in cui tu hai fatto il botto con il... con... No, non era questo. No, non era questo. Zio. Ho detto, zio, stai calmo, dai che ce la facciamo. E poi ci hanno cominciato a sparare addosso, e poi siamo esplosi. No, no, non era l'esplosato. No, 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 no. Perché ero lì su il coso che... Ciao, in che squadra andiamo? In che squadra sei? Io sono in Militia. Anch'io Militia. Non c'è chi mi ha portato, Rianus. Sono l'acqua al conci. E andiamo su... Yeah, I'm, I'm, I'm Militia as well. Yeah, yeah. Ebu, 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 Ebu. Ebu, 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 Ebu. Ebu, 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 Ebu. bravo abii ben aşağı iniyo ooo ben de yanlisi geldim user joined your channel ohhhh abii mal gibi niye yukarı çıktınız ki amana kai kafa sikiyor yavuz bir ara şeyi dinletek diye çıktık bastım geri inmiyor aman satışı koymak için gel gel gitek diyor satış koymak için amana kai eee satış koycam ben diyemiyo da eee eee niye böyle eee eee işim geliyo tamam sıç bide tamam בר tamam 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. Yeah. Yeah. Grazie a tutti. 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 , grazie a tutti. , , grazie a tutti. a tutti. , grazie 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 a tutti. ma 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 cosa cosa ma 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 mia ma 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 ma